Ciao a tutti, oggi parliamo di 10 protagonisti di Mingors che potrebbero essere sostituiti da altri protagonisti barra personaggi di serie tv Iniziamo subito con Kevin, Kevin è il ragazzo indiano molto bravo a scuola, un po' secchia e genio della matematica Potrebbe essere benissimo sostituito da Raji, sono ottimi e si assomigliano anche molto La mamma di Regina invece potrebbe essere sostituita da Amanda di Sex and the City, entrambe donne di mezza età un po' vivaci Janice invece potrebbe essere Kelly di Misfits, entrambe punk, senza peli sulla lingua, gran bel personaggio tra l'altro, mi sono sempre piaciuti entrambi Gretchen potrebbe essere Sisi di New Girl perché sono entrambe molto carine, comunque che puntano tanto sulla loro bellezza e un po' forse svampite No, in realtà Sisi non è svampita, Gretchen sì, però si assomiglia a uno, quindi non sono loro due La professoressa Norbury invece potrebbe essere sostituita da un personaggio che fa l'insegnante ma anche lo spacciatore, indominate chi? Ebbene sì, lui, Walter White, è stupendo, cioè proprio sono gli stessi personaggi No, poveretta, alla fine la professoressa Norbury non spaccia, però l'avevano accusata di spacciare, quindi metto lei Karen invece è l'amica un po' più scema Potrebbe essere Max, anche se Max è molto più sveglia di Karen Però puntano tutte e due molto sul loro seno, parlano spesso del loro seno Soprattutto Karen che racconta che grazie al suo seno riesce a capire quando sta per piovere e quando già piove Katie invece potrebbe essere Piper di Orange is the New Black Perché non assomigliano assolutamente per nulla Però entrambe sono le ultime arrivate e cambiano ambiente Cambiano molto ambiente, soprattutto Piper, anche Katie alla fine Cambia anche il personaggio, ovviamente si evolve e cambia sempre Damien invece potrebbe essere Cameron di Modern Family Perché sono entrambi molto teatrali, eccentrici e quindi si assomigliano Per Aaron invece ho immaginato il più bello, il più belloccio della tv E chi è il più belloccio della tv? Derek di Grey's Anatomy Regina invece potrebbe essere Rachel, anzi è Rachel Entrambe di una famiglia ricca, entrambe viziate ed entrambi un po' principessine Soprattutto Regina, mia regina Raccontatemi voi quale personaggio scambiereste con chi E sì, è un po' difficile dirlo però è questo il fatto Alcuni si assomigliano fisicamente, altri magari più di carattere Alcuni fanno ridere e si assomigliano per quello Altri invece non c'entrano a nulla Ricordatevi di mettere mi piace, di scrivere un commento Metto tutto quanto nell'info box, il sito e la pagina facebook Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video Grazie